Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. La disciplina su Wister Blowing si è affermata negli Stati Uniti per la prima volta nel 1863 quando fu emanato il False Claims Act on Lincoln Love per ridurre i comportamenti fraudolenti posti in essere i danni del governo dai fornitori di materiale bellico durante la guerra di successione prevedendo una ricompensa per il denunciante. In sede europea il Wister Blowing è stato normato nel 2017 e successivamente ha trovato applicazione con la direttiva europea 2019-1937, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24 del 10 marzo 2023. Quali sono le organizzazioni tenute a rispetto della norma? A titolo esemplificativo, se non tenute a rispetto del Decreto Legislativo 24-2023, le amministrazioni pubbliche, i concessionari di pubblico servizio, gli enti pubblici economici e le società in house e anche se quotate, i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, soggetti del settore privato che adottano modelli di organizzazione, gestione nel senso del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 numero 231. Un istituto che mette in campo gli interessi pubblici ma anche le libertà, la libertà di espressione, di informazione, il diritto di critica che portano quindi con sé anche il diritto di ricevere, di comunicare informazione e la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa. La normativa privacy applicata al Wister Blooming, il regolamento europeo 2016-679, prevede massima tutela per la salvaguardia dell'identità del segnalante che impone che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e ricevere o dare seguito alle segnalazioni. Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito diversi pareri sullo schema di decreto, nonché sulle linee guida dell'ANAC, prevedendo per i titolari del trattamento pubblici o privati tenuti al rispetto della norma, che nel trattamento dati e ferenti segnalanti, nel rispetto del regolamento europeo 2016-679, adottino misure di sicurezza, predispongono una valutazione di impatto, eseguono un'attività formativa dedicata per chi si occuperà dei dati dei segnalanti, ecc. Il Wister Blooming del quale si è occupata ANAC almeno fino al 15 luglio di quest'anno è sempre stato il dipendente pubblico che nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione segnala all'autorità giudiziaria ordinaria, all'autorità giudiziaria contabile, all'RPCT della propria amministrazione o ad ANAC condotte illecite delle quali si è venuto a conoscenza. L'ANAC è un'autorità amministrativa indipendente composta dal Presidente e da quattro componenti scelti, tra esperti di elevata professionalità e comprovate esperienze in materia di contrasto alla corruzione. Tra i compiti dell'autorità è l'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. L'attività di ANAC si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti, quindi l'applicazione della normativa anticorruzione e il rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esucazione dei contratti pubblici. Con piacere volevo anche dirvi che l'associazione è un soggetto terzo che ha siglato con ANAC una convenzione, siamo diventati uno degli enti terzi che può erogare un'attività di supporto gratuita ai segnalanti ma anche coloro che sono oggetto di segnalazione. Questa è un'area che abbiamo creato sul sito dell'associazione che si chiama proprio Wister Blu, dove trovate tutte le informazioni, quindi le news, i riferimenti normativi e anche dei link utili, dei contatti dell'associazione e c'è anche una piattaforma sicura in cui si può chiedere un supporto per delle segnalazioni che sono state fatte, se si hanno dei dubbi. Chi volesse ricevere maggiori informazioni rispetto proprio a questo aspetto che riguarda le segnalazioni al supporto fornito dall'associazione, cliccando sul sito dell'associazione, quindi www.associazionedirittiprivacy.it, nell'home page abbiamo creato proprio una sezione che si chiama Wister Blu. Quindi grazie a tutti e buone cose. Ben trovati a tutti. Oggi sono qui a parlarvi un pochino di cosa significa avere una malattia reumatica in giovane età. Io mi chiamo Irene Testa, sono consigliera del direttivo regionale di Amar Piemonte, un'associazione che si occupa a livello locale e regionale di supportare le persone con malattie reumatiche. Ho 28 anni, nella vita sono una psicologa e sono venuta in contatto per la prima volta con una malattia reumatica quando avevo 22 anni. All'epoca frequentavo l'università e l'impatto che la malattia ha avuto e ha, a prescindere dall'età che una persona possa avere, è sempre un qualcosa di molto importante. In primis perché queste malattie sono croniche, quindi non hanno guarigione e bisogna un pochino inventarsi e reinventarsi per poterci convivere per tutta la vita. Andando avanti poi con gli anni ho insomma fatto un pochino i conti con una prima, una seconda e poi una terza malattia perché spesso la comorbidità fra queste patologie è alte. Attualmente però, seguendo tutte le terapie che mi vengono date e prescritte dai medici specialisti, la malattia per fortuna è sotto controllo. Le principali problematiche che una persona giovane, qualche mio coetaneo può avere quando viene appunto a contatto con queste malattie, in primis sono delle emozioni fortissime. Si prova tantissima rabbia perché non si capisce come mai, il perché, da come, da dove siano arrivate, la paura per il futuro, per affrontare un cambiamento che va a impattare, sicuramente sulla propria vita personale, sulla propria vita familiare e anche sociale. La paura e le difficoltà che possono intervenire nel lavoro, in quanto bisogna anche lì un pochino di nuovo riadattarsi e capire un pochino quale lavoro, al di là e sempre in linea con le proprie passioni si può fare, quale cose si possono e non si possono fare. Sicuramente un altro aspetto importante è che tantissime di queste malattie sono le cosiddette malattie invisibili. Ciò vuol dire che da fuori una persona con una malattia reumatica sembra una persona sana, una persona come tutti gli altri. Queste malattie appunto sono invisibili perché ti prendono dentro, al di là di alterazioni corporee, fisiche che sono dovute alla patologia stessa, però al di fuori non si vede niente. Io faccio parte della sezione Young del Piemonte, siamo un gruppo di giovani che vanno dai 18 ai 35 anni e abbiamo come prima mission, come primo obiettivo quello di supportarci a vicenda. Abbiamo creato una rete, abbiamo creato una famiglia, io non posso pensare alla mia vita senza l'associazione. Ci siamo poi diffusi anche a livello nazionale e ci occupiamo prevalentemente anche di fare sensibilizzazione in materia. Per sapere cosa facciamo, dove siamo e chi siamo, vi invito a guardare le nostre pagine social e il nostro gruppo Young in particolare, ma che fa capo anche all'associazione principale sul sito di Amar Piemonte. Vi ringrazio per l'ascolto e vi mando un grosso abbraccio e un grosso arrivederci. Bentrovati, siamo con Roberto Sardo, presidente regionale Ammi del Piemonte, per parlare delle attività svolte dalla fondazione Ammil Sosteniamoli Subito, uno degli enti della rete Ammil, nato nel 2005 con lo scopo di promuovere con azioni assistenziali nei confronti delle vittime del lavoro e dei loro familiari. Come si muove la fondazione per realizzare questo accordo e questo obiettivo? Salve a tutti. La fondazione Sosteniamoli Subito è attiva su più fronti per continuare ogni giorno ad essere un punto di riferimento per le vittime e i familiari di infortunati sul lavoro. Attraverso campagne e accordi mirati promuoviamo studi, ricerche e soluzioni rivolte principalmente ai superstiti come ad esempio il recente protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi che è volto all'accesso agevolato al sostegno psicologico per chi abbia subito tragici eventi sul lavoro. Un'attività particolarmente coinvolgente e gratificante messa in campo dalla fondazione è l'impegno per offrire borse di studio ai figli di invalidi e orfani del lavoro. L'emozione di poter essere un riferimento per chi ha subito il dramma così profondo e razionalmente ingiustificabile è per noi un grande stimolo. Ha accennato al protocollo d'intesa con l'Ordine degli Psicologi indubbiamente un infortunio e a maggior ragione una morte sul lavoro hanno un forte impatto emotivo su chi lo subisce. In cosa consiste questo supporto? Come si concretizza questo importante accordo? Quello del sostegno psicologico è uno dei temi sui quali la fondazione ANMIL si è maggiormente battuta negli anni. Siamo convinti che si tratti di un momento fondamentale per chi ha subito un infortunio per superare il trauma sia per le famiglie nel quale si verificano i drammi sia per gli infortunati stessi. Lo scorso anno siamo arrivati alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il CNOP che è il Consiglio Nazionale degli Psicologi che ci consentirà di offrire a tutti i soci ANMIL e ai loro familiari un sostegno psicologico a costi ridotti. Per usufruire del servizio gli interessati dovranno contattare il numero verde dell'ANMIL che è 800 180 943, lasciare i propri recapiti al fine di essere richiamati dalla direzione generale che farà poi da tramite con i professionisti del CNOP che si saranno resi disponibili ad offrire questo servizio. Sarà individuato preferibilmente un professionista del territorio, del richiedente sia per le sedute in presenza sia per un servizio online in modo da agevolare gli utenti. La fondazione ANMIL promuove anche azioni fortemente simboliche per la sensibilizzazione sul tema della prevenzione come ad esempio le panchine commemorative. Ce ne vuole parlare? Da alcuni anni la fondazione Sosteniamoli Subito è impegnata nelle installazioni in ogni città del paese di panchine dedicate alle vittime del lavoro che invitano la cittadinanza a fermarsi un momento per riflettere sul dramma delle morti nei luoghi di lavoro. Sono circa una ventina ad oggi le panchine presenti in tutta Italia per rendere omaggio alle vittime del lavoro e talvolta queste panchine sono dedicate ad una vittima del territorio. È un'iniziativa a cui teniamo molto e che ci auguriamo di poter portare presto in più comuni possibili per contribuire sempre di più a sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica su questo tragico fenomeno. Ringraziamo il Presidente Sardo e ricordiamo il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18 800 180 943 oppure potete inviare una mail alla segreteria fondazione chiocciolaammil.it o seguire il sito www.ammil.it o la pagina Facebook Fondazione Sosteniamoli Un saluto ai nostri ascoltatori. Sono Marco Bongi, il Presidente dell'Associazione Pro Retinopatici e i Povedenti. La sigla è APRI ODV. Oggi ci occuperemo di un argomento ancora abbastanza poco conosciuto, le barriere architettoniche sensoriali. Cosa si intende? Noi solitamente conosciamo bene tutte le infrastrutture che intendono consentire alle persone con disabilità motoria di potersi muovere autonomamente. Quindi gli scivoli, le passerelle, l'eliminazione dei gradini eccetera. Però anche le persone non vedenti e i povedenti hanno delle difficoltà a muoversi da sole nell'ambiente urbano. Esistono quindi delle soluzioni che possono venire incontro a queste necessità. Queste sono indicate sia nella legge 104 del 92 sia nel DPR numero 503 del 96. Ciò nonostante, spesso queste disposizioni sulle barriere sensoriali vengono ignorate, non per cattiva volontà, ma per poca conoscenza delle soluzioni che sono messe a disposizione. Oggi mi occuperò soltanto di tre aspetti che sono tutto sommato abbastanza facili da realizzare e che quando vengono progettati bene in realtà non comportano aumento di costi per le pubbliche amministrazioni. In primo luogo molti di voi avranno visto nelle stazioni, negli aeroporti e in molte realtà pubbliche e private le cosiddette piste tattili o podotattili. Sono delle strisce in rilievo che sono installate sui pavimenti, sui marciapiedi e in altre situazioni che consentono alle persone non vedenti che utilizzano il bastone bianco per la loro mobilità di potersi orientare. Degli itinerari sicuri, nelle scanalature si fa scorrere la punta del bastone bianco e si è condotti diciamo lungo un percorso privo di ostacoli. Queste piste possono essere installate sia in ambienti interni che in ambienti esterni. Un secondo dispositivo molto molto utile sono i cosiddetti semafori sonori. I semafori sonori sono degli impianti semaforici che in qualche modo segnalano quando il transito è consentito, cioè quando è indicato il verde e lo indicano attraverso dei segnali sonori, dei bip o altre segnalazioni. Ovviamente perché questi dispositivi non compiano un inquinamento acustico, i più recenti sono dotati di pulsante che può essere schiacciato appunto dalla persona non vedente che deve attraversare e che quindi attiva il segnale sonoro solo quando è effettivamente necessario. Un terzo dispositivo molto importante è quello delle segnalazioni acustiche sui mezzi di trasporto pubblico, gli autobus e i tram. Queste segnalazioni indicano il nome della prossima fermata quando sono all'interno e indicano il numero della linea e la direzione quando sono invece posizionate all'esterno. Quindi dispositivi semplici, poco costosi che però molto spesso vengono ignorati. Per questo la nostra associazione si mette a disposizione di comuni, progettisti e pubblici funzionari per dare indicazioni e soluzioni accettabili. Grazie. Ben trovati, sono il geometra Luisa Roccia, presidente del collegio di Torino e provincia che ha sede in Via Toselli 1 a Torino. Uno dei servizi che propone il collegio dei geometri è un servizio che in collaborazione con la città di Torino che si svolge nelle biblioteche comunali mette a disposizione e cioè il geometra risponde. In queste occasioni il cittadino può iscriversi sul sito della città di Torino e prendere appuntamento. Questo raggiungendo la biblioteca comunale potrà trovare un libro professionista geometra che potrà mettersi a disposizione per rispondere ad alcune domande. Uno dei temi che viene spesso richiesto e affrontato è il tema della sicurezza nei cantieri e per questo passo la parola al collega. Ben trovati, sono il geometra Zuccotti, vicepresidente del collegio dei geometri e geometri laureati di Torino e provincia e coordinano la commissione di sicurezza. I geometri attraverso dei corsi abilitanti assolvono l'incarico e la specializzazione di coordinatori sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei cantieri oppure possono assolvere i compiti del servizio di prevenzione e protezione all'interno delle aziende. Un proprietario quando deve risotturare un proprio fabbricato dovrà tenersi a determinate regole. La più importante è il decreto legislativo 8108, il testo unico sulla sicurezza ed in particolare l'articolo 90 che riguarda i committenti. Questo dovrà in caso di opere affidate a più imprese affidare l'incarico ad un coordinatore della sicurezza per stilare e per redigere un piano di sicurezza. Nel caso in cui le opere sono affidate inizialmente ad un'unica impresa e poi vengono affidate in subappalto delle parti ad altre imprese dovrà essere comunque nominato un coordinatore. Uno degli altri obblighi dell'articolo 90 è la spedizione e l'inoltro presso l'ospresa, la direzione regionale del lavoro e il comune dove viene eseguito l'opera della notifica preliminare. Questo obbligo diventa importantissimo perché è tra gli obblighi che se disattesi può far decadere quelli che sono i benefici fiscali e per cui le relative detrazioni. Il committente inoltre quando affida le opere ad un'impresa ne dovrà verificare quelle che sono le idoneità tecnico-professionali. Per questo compito, siccome è molto difficile e complesso, consiglio di rivolgersi al geometra presso cui hanno richiesto di presentare le pratiche edilizie per farsi assistere. Io vi saluto e passo la parola al geometra Luisa Roccia, Presidente del Collegio. Bene, in conclusione posso dire che il geometra abilitato a fare questo ruolo all'interno del cantiere è abilitato tramite un corso di 120 ore che riguarda la sicurezza. Non basta aver solo fatto il corso delle 120 ore, bisogna aver superato un test e nel quinquennio successivo mi raccomando colleghi formatevi perché diversamente si perde l'abilitazione, quindi è importante essere sempre formati. A questo punto grazie per l'attenzione e mi rivolgo al committente frequentate e navigate sul nostro sito internet per trovare il geometra specializzato in sicurezza. Grazie.